Ciao a tutti! Giorgi ma fa caldo eh? Tanto! Mamma mia se more! Oggi lo sai che famo Giorgi? Dimmi! Ci proviamo? Dai! Fiamo un bel tonnarello via qua! Allora gamberoni, guanciale, pesto di rucola facciamo quindi rucola, pinoli, olio, sale, pecorino romano e tonnarelli. Dai Giorgi! Allora mettiamo proprio un filetto, un filetto d'olio eh? E ci andiamo a scottare i gamberoni. Vediamo che succede eh Giorgi? Nel frattempo tagliamo il nostro panciale, leviamo la codica. Dai! Speri che abbiamo dato giusto una scottata, adesso li togliamo, li levamo e li puliamo. Nella stessa padella ci andiamo a mettere il guanciale. Che è Giorgi? Andiamo a spingere il guanciale, abbiamo pulito i gamberoni, adesso andiamo a fare il pesto eh? Allora, olio, rucola, pinoli, Eh Giorgi? Eh sì, e padridi? Aspetta, aspetta, un altro cucchietto d'olio e un pizzico di sale. E andiamo a tritare. Il nostro pesto di rucola, taglie. Ora tagliamo i nostri gamberoni a pezzetti, buttiamo i nostri tonnarelli. Questi ci hanno 4-5 minuti, io 2 minuti, 2 minuti e mezzo, li levo, dai! Allora, andiamo a scolare la pasta, mi raccomando l'acqua di cottura eh. Guarda Giorgi, eh sì. Un po' d'acqua di cottura, ci buttiamo il nostro pesto di rucola. Un minuto prima che spingiamo, ci buttiamo i nostri gamberoni. Ora spingiamo e ci mettiamo il nostro pecorino romano, va? Giorgi, guarda che meraviglia. Eh sì. Eh? Noi che andiamo a fare Giorgi? Il nostro impiattamento. Dai! Giorgi, vediamo che fuamo oggi qui, che la situazione è ingarbugliata eh. Vediamo qui Giorgi, che oggi ci mettiamo un po' di oietto a crudo. La grattadina di pecorino. Dai! E questo, come oggi, qualcosa hanno fatto. Purtro oggi ci siamo stati insieme. Ve da un abbraccio, un bacio. Grazie. Dai! Grazie. Grazie.